Buon pomeriggio da Infostudio alle 13.50, martedì 6 febbraio. Non era una novità, anzi si sapeva da tempo dell'inchiesta della procura di Catanzaro sull'elisoccorso, ma quello che è stato scoperto e che ha portato oggi all'arresto di 4 persone è francamente abbastanza raccapricciante. Una gara d'appalto per il soccorso con l'elicottero per fornire la più veloce assistenza a coloro che sono in grave pericolo di vita. Una gara da oltre 100 milioni di euro che si è scoperto era taroccata, era stata truccata per un accordo collusivo, così si esprimono i magistrati della procura di Catanzaro. Le immagini che vedete si riferiscono alla conferenza stampa con la quale stamattina presso il comando provinciale della Guardia di Finanza sono stati forniti i dettagli dell'operazione. Un accordo collusivo tra gli indagati, alcuni dirigenti dell'ASPE della regione e i rappresentanti della società per alterare il contenuto della gara d'appalto. La Guardia di Finanza ha arrestato e posto ai domiciliari Eliseo Ciccone, 65 anni, che è un dirigente medico dell'ASPE di Catanzaro, è responsabile della centrale operativa del 118 ed è anche il coordinatore del servizio di eri soccorso in Calabria. Ha arrestato anche il Salvatore Lopresti, 58 anni, che è il dirigente del Dipartimento tutela della salute della regione Calabria e coordina il gruppo di lavoro incaricato di predisporre il capitolato tecnico della gara, che è in fase di espletamento per l'eri soccorso alla stazione unica appaltante. E poi due funzionari della società Babcock Mission Critical Service Italia, che è la società che si è aggiudicata l'appalto in Calabria, ma non solo, sentirete tra poco nelle parole del procuratore Gratteri, che è proprio di ieri, dell'altro ieri, mi sembra, la notizia dell'aggiudicazione di un altro grosso appalto presso il Ministero dell'Interno. I due funzionari di questa società della Babcock sono Monica Mazzei, 50 anni, che è la direttrice vendita e flotta per l'Italia e il sud Europa, e Leano Bertola, 38 anni, direttore commerciale ed offshore della stessa società Babcock. L'accusano i loro confronti di concorso in turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. C'è un'altra dipendente della Babcock che è indagata in Stato di libertà, si tratta di Sara Corrideo, 26 anni, che è la segretaria di Bertola ed era l'incaricata per la gestione della partecipazione alle gare d'appalto. Oltre agli arresti sono state eseguite diverse perquisizioni in Calabria, in Veneto ed in Lombardia. In favore della Babcock, scrivono sempre i magistrati di Catanzaro, è stato predisposto, confezionato un bando su misura, in spregio, dei principi di imparzialità dettati dal legislatore in materia di appalti. Per confezionare, per cucire un abito perfetto per la società che poi se la giudicava, l'appalto di eri soccorso, c'erano stati anche diversi incontri che si sono svolti a Catanzaro e per cercare di non far scoprire i quali, coloro che si incontravano, il dirigente medico, il coordinatore del risoccorso, il dirigente del Dipartimento di tutela della salute e i rappresentanti della Babcock avevano sempre cura di scegliere posti, luoghi diversi, anche di cambiarli proprio per non dare nell'occhio. E poi si parla dell'uso di misure ancora più sofisticate per gli accertamenti giudiziari nelle dichiarazioni sia del procuratore Gratteri, che ancora una volta si sofferma, sottolinea la spregiudicatezza con la quale è stata gestita questa vicenda, e poi del procuratore aggiunto, Vincenzo Capomolla. Noi abbiamo sempre parlato della permeabilità della pubblica amministrazione, abbiamo dimostrato con le ultime 5 indagini fatte con le guardie di finanza come si è speculato, ricordate, sui poveri, come si è speculato sui malati che avevano bisogno di assistenza a casa, cioè quindi la spregiudicatezza non ha limiti, il nome del denaro si è disposto a qualsiasi cosa. Siamo riusciti a costruire, a dimostrare passo passo come si trucca una gara, è un manuale di come si trucca una gara. Sostanzialmente noi abbiamo seguito per un anno facendo pedinamenti, facendo rilievi, esattamente come facciamo per i trafficanti di cocaina. Pensate che per incontrarsi cambiavano 5-6 ristoranti nella sola Catanzaro, voi sapete la difficoltà per muoversi in questa città, ma le abbiamo seguite a Bolzano, a Milano, le abbiamo seguite dappertutto. Abbiamo tracciato le loro mail, i loro file, le intercettazioni telefoniche, ambientali. Abbiamo dimostrato un quadro che è sconcertante e considerato alla spregiudicatezza. Si tratta di una società che ha sede a Milano, di soggetti del nord che sono qui ad incontrare, ad abbracciare dei pubblici amministratori calabresi, per manipolare, per far sì che la gara venga aggiudicata a questa società. Società molto importante, società che ha vinto in più regioni d'Italia, che ha vinto all'estero l'ultima tre giorni fa al Viminale per i Caneder per 100 milioni di euro. Queste indagini sono avvalse anche di strumenti di investigazione che qualche anno fa non sarebbe stato possibile utilizzare per questo tipo di indagine. Come ho accennato prima, questa specifica fattispecie che è stata contestata in questo provvedimento cautelare odierno è stata introdotta nel 2010 e con l'introduzione di questa norma sono state anche elevate le pene previste per le norme che precedentemente presidiavano la correttezza delle gare della pubblica amministrazione. Con questo aumento di pene d'Italia è stato possibile anche procedere con attività di carattere intercettivo che invece qualche anno fa non era possibile utilizzare. Ciò ha consentito appunto di cogliere quei profili insidiosi dei comportamenti che alterano le gare pubbliche fin dal momento della predisposizione del bando. Dato che mancano solo 26 giorni alle elezioni, ormai meno di un mese, è importante anche quest'altra dichiarazione che Nicola Gratteri ha rilasciato ad una domanda, precisa domanda, della collega della RAI Emanuela Gemelli la quale gli chiedeva del legame tra elezione, corruzione e corruzione in genere e ndrangheta. Sappiamo di quello che Gratteri ha dichiarato poche settimane fa in una faccia a faccia sulla 7 con Giovanni Minoli il voto dell'andrangheta, tutto Gratteri in sostanza pesa per il 30%. Sentiamo cosa ha dichiarato il procuratore di Catanzaro in merito. Esiste il voto libero nel senso che quando si è nella cabina non c'è nessuno che vi metta una pistola alla tempia quindi in quel momento si è liberi se si vuole. Il dato, il dramma sa qual è. La cosa triste è che purtroppo la gente disperata, soffocata o gente che ha un livello dell'etica perché non è solo il bisogno, è anche ingordigia, si rivolge al capo mafia e per capo mafia dà risposte che la politica mediocre non dà. Sull'argomento elezioni è intervenuta stamattina anche Rosi Bindi che sta partecipando ad un'iniziativa comunque in Calabria come presidente della commissione antimafia. A proposito delle elezioni politiche ha detto non possiamo fare inchieste a Parlamento sciolto. Per questo stavolta non abbiamo preso in esame le candidature e molti ricorderanno le polemiche in sorte dopo la lista che era stata fornita di incandidabili dall'antimafia proprio alla vigilia delle elezioni. Ma mi pare di capire, ha aggiunto la Bindi da quello che leggo sui giornali, che ci sarebbe stato materiale anche in questa occasione. Fra l'altro la presidente dell'antimafia ha parlato della vicenda di dipendenti dell'ASP di Reggio Calabria condannati che tuttavia sono stati ancora pagati. Che il sistema sanitario calabrese avesse bisogno più che di un tagliando di un intervento profondo lo sappiamo da molto tempo, ha detto la Bindi. Credo che il fatto che ci siano dipendenti condannati in via definitiva ancora regolarmente pagati sia un problema, bene se viene affrontato. Auspichiamo però che ci sia anche la capacità di far funzionare i servizi sanitari in questa regione. Si tengano i bilanci a posto da tutti i punti di vista e che nessuno si avvantaggi di queste situazioni che d'altra parte richiedono e se stesse degli interventi normativi. Il verde, il giallo, l'arancione e il rosso, ma anche il bianco, come al pronto soccorso o quasi, ma comunque non c'è da sorridere assolutamente perché parliamo del nuovo sistema di allertamento della protezione civile. Tutti e 408 i comuni calabresi erano ieri rappresentati da sindaci o da loro delegati, da assessori, oltre ai prefetti e alle associazioni di volontariato presso la Fondazione Terina di La Mezzaterme dove la protezione civile ha presentato il nuovo sistema di allertamento. Adesso nessuno ha più scuse. Il nuovo sistema di allertamento contro il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico è stato presentato agli amministratori di tutti i 408 comuni calabresi, ai prefetti e dalle associazioni di volontariato nel corso di un workshop che si è tenuto alla Mezzaterme presso la sede della Fondazione Terina. La Calabria è tra le prime sette regioni italiane che si sono adeguate alla nuova direttiva che contiene le regole di gestione del sistema di allertamento ed indica le attività da attuare attivando i piani comunali di emergenza che purtroppo pochi comuni hanno già adottato. Ai partecipanti all'incontro è stato consegnato un opuscolo che riporta le istruzioni pratiche sulla nuova direttiva approvata nel novembre scorso e che è basata sui codici di colore che caratterizzano i livelli di allertamento. Tutto funziona in base a quattro colori. Verde che indica assenza di criticità, giallo che esprime una criticità ordinaria, arancione che la innalza a criticità moderata e rosso per la criticità elevata. Grazie a 150 sensori messi a punto dall'ARPACAL i comuni sono avvertiti in tempo reale sugli eventi pluviometrici previsti e su quelli in corso. La protezione civile starà vicina ai sindaci nel passaggio dalle vecchie alle nuove regole. L'obiettivo è quello di organizzare una macchina sincronizzata tra comuni, prefetti, volontari ed ARPACAL per fare in modo di limitare i danni alle cose e soprattutto alle persone, scongiurando la perdita di vite umane. La Calabria è la regione italiana più esposta ai rischi naturali, frane, terremoti e alluvioni. In questa regione è entrata in vigore una direttiva nazionale che è la nuova direttiva allerta meteo, cioè una direttiva che dice ai sindaci prevalentemente che cosa devono fare quando scattano i nuovi livelli di allerta basati sui codici di colore, quindi verde, giallo, arancione e rosso. Che devono fare? Ad esempio quando l'allerta è giallo, arancione, per esempio in base ai livelli di allerta devono chiudere i sottopassi, chiudere le strade che possono essere in base dall'acqua dei fiumi e quindi ammazzare qualcuno e fare tutta una serie di attività, mi viene in mente anche in prossimità dei corsi d'acqua, fare sgomberare le case che stanno nei semi interrati. Abbiamo visto a Livorno sono morte 15 persone nelle zone prossime ai fiumi nei semi interrati. Quindi una serie di attività che sicuramente possono migliorare il livello di organizzazione, la pianificazione dell'emergenza. Alla fine da parte mia è un cambio di cultura che voglio imprimere nella regione, dalla cultura del fatalismo, degli scongiuri alla pianificazione dell'emergenza, secondo criteri molto rigidi e molto stretti. Una persona è stata arrestata e altre sette denunciate in un'operazione contro la repressione del caporalato. La guardia di finanza di Montegiordano ha fermato a Roseto Capospurica, ad un posto di blocco, un furgone condotto da un italiano a bordo del quale c'erano 10 extracomunitari, persone che stavano recandosi in due aziende agricole per raccogliere la frutta in Basilicata. E' così che è stato scoperto che queste persone venivano retribuite con un euro per ogni cassetta di mandarini raccolta. Ora vedrete delle foto e successivamente un breve filmato a Reggio Calabria. I carabinieri della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato tre commercianti ambulanti, sono due marocchini ed un italiano, accusati di estorsione, lesioni personali e di illecita concorrenza con violenza e minacce aggravati dalle modalità mafiose. Secondo l'accusa, i tre hanno ripetutamente aggredito un altro commerciante ambulante per costringerlo ad abbandonare la propria posizione, la propria postazione, meglio ancora, nei mercati rionali di Reggio Calabria. Oltre 2000 pneumatici usati, depositati legalmente, sono stati sequestrati in una stazione di servizio a Catanzaro, in zona Germaneto. I carabinieri forestali che hanno agito hanno anche denunciato quattro persone. Il materiale veniva trasportato e accumulato illegalmente in grandi quantità all'interno di quest'area di servizio in attesa di essere smaltito. Le persone denunciate sono stati reati contestati, meglio, i reati in violazione del testo unico sull'ambiente. e adesso parliamo di un centro di aggregazione per giovani che è nato a Crotone su impulso soprattutto di una parrocchia, la parrocchia di Santa Rita, ma che è aperto naturalmente alla partecipazione di giovani anche delle altre parrocchie. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore. Nel ricordo di San Giovanni Bosco, fondatore dell'Ordine dei Salesiani ed Apostolo dei Giovani, a Crotone è nato Access Point, uno spazio aggregativo che si trova in pieno centro, a due passi dal Palamilone, in cui proprio i giovani potranno coltivare e dare vita ai loro progetti legati al mondo della solidarietà sociale, culturale e sportiva. E saranno proprio i ragazzi ad esserne protagonisti con la gestione attiva curata da AP, un'associazione di promozione sociale cui hanno aderito una cinquantina di giovani fra i 14 e i 30 anni, quasi tutti afferenti alla parrocchia di Santa Rita. Per Don Luca Greco, che ha guidato il lavoro di aggregazione ed ispirato l'idea di creare un luogo che ne fosse il riferimento, l'Access Point è un punto di raccolta di proposte e di espressione, di potenzialità. Abbiamo preso l'idea da un uomo che ha speso la sua vita per i giovani, San Giovanni Bosco, che diceva sempre che in ogni ragazzo e in ogni giovane c'è sempre un punto accessibile al bene e questo spazio vuole essere questo, un'occasione perché i giovani possano accedere al bene che è il loro scoprendo le tante cose buone, le tante storie buone, le tante persone buone che potranno incontrare per scoprire questo bene dentro di loro. L'associazione AP si raccorda ad altre formate da giovani e particolarmente attive sul territorio di Crotone, tant'è che non c'è alcuna preclusione alla partecipazione anche ad appartenenti ad altre parrocchie cittadine. Formata da giovani dai 14 ai 30 anni, da una cinquantina di giovani, ci occuperemo in questo centro, faremo diversi laboratori, diverse attività, uno di questi è un corso per i bambini con bisogni educativi speciali tramite un'altra associazione in collaborazione che si chiama Canale Scuola, un'associazione di Bolzano. Le porte sono aperte a tutti, questo spazio è aperto a tutti i giovani, noi abbiamo bisogno dei giovani, poiché solo con le loro idee possiamo andare avanti con questo centro. Interistato era Alfredo e non Alfonso Marando, gli chiediamo scusa, rettificheremo per la prossima edizione. Notizia di tre minuti fa lanciata da Repubblica alle 14.04, il Tribunale di sorveglianza ha deciso, Marcello Dell'Utri resta in carcere, quindi non verrà scarcerato per motivi di salute ed infine, questo è un argomento che andrebbe approfondito per la verità, sappiamo che non è stato un inverno particolarmente piovoso, soprattutto per quanto riguarda le regioni meridionali. Ebbene, nei prossimi mesi sicuramente ci saranno problemi per l'agricoltura, a dirlo poi sono esperti, segnatamente Francesco Vincenzi, ieri c'è stata una riunione dei consorsi di bonifica e il presidente dell'ANBI, che è l'associazione nazionale dei consorsi di bonifica, appunto Vincenzi, ha detto che la situazione sì è diversa dallo scorso anno ma che allo stato delle cose sono prevedibili per i prossimi mesi ulteriori situazioni di difficoltà nelle disponibilità idriche per l'agricoltura, con ricadute non solo economiche ma anche ambientali. Trovarsi già ora a effettuare proiezioni credibili, ha detto Vincenzi è molto importante ed aiuterà ad accorciare i tempi delle risposte ai territori. Ci ritroveremo alle 19.20, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Grazie a tutti.